Ben tornati al commento del Vangelo di questa domenica, la solennità della trasfigurazione del Signore e diamo lettura al Vangelo. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola Pietro disse a Gesù, Signore è bello per noi essere qui, se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia. Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva, questi è il figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse, alzatevi, non temete. Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro, non parlate a nessuno di questa visione, prima che il figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Per entrare nel Vangelo di questa bellissima solennità, ci facciamo aiutare dall'icona della trasfigurazione. Siamo nel cuore dell'estate e facciamo festa al Gesù che sul monte Tabor si trasfigura. Questa è una festa molto sentita in tutto il mondo monastico e anche nelle chiese d'Oriente, perché è una festa che ci fa per un momento gustare la bellezza che è in Dio, ma non soltanto quella che è in Dio, ma anche quella che è promessa a noi, che viene chiamata divinizzazione. A noi sembra una parola un po' strana, ma dire l'uomo divinizzato è dire che l'uomo vive un'umanità simile all'umanità di Gesù che è divina. Quindi oggi è la festa di Dio e la festa dell'uomo. Abbiamo letto nel Vangelo che c'è questa espressione, in quel tempo Gesù prese. In realtà se guardiamo il Vangelo di Matteo c'è un'espressione più precisa, dice il sesto giorno, quindi è il giorno prima dello Shabbat per gli ebrei, siamo di venerdì. E il sesto giorno ci ricorda un altro sesto giorno, il sesto giorno in cui Dio ha creato l'uomo e la donna, in cui Dio ha voluto donare un paradiso, un luogo di pace e di incontro all'essere umano. Ma il sesto giorno ci ricorda anche in Esodo il cammino fatto da Mosè sul monte Sinai, quando nel sesto giorno vede la gloria di Dio. Quindi la trasfigurazione ci rimanda a questi due grandi eventi e per noi cristiani poi sappiamo che c'è un altro sesto giorno, è un altro venerdì, è il venerdì della passione di Gesù. Quindi la trasfigurazione si colloca tra questi venerdì e ne capiamo il senso più profondo. Gesù si ritira a pregare, va sul monte. Tutti i momenti importanti della vita di Gesù sono vissuti sui monti, sono vissuti nel ritiro, sono vissuti in disparte. Pensiamo al battesimo, alla confessione di Pietro, quando Gesù deve scegliere i dodici e pensiamo quando Gesù deve consegnarsi nell'orto degli olivi. E allora qui in questo andare in disparte di Gesù, Gesù ci consegna il suo segreto prezioso di questa sua umanità che è divina, che è quella umanità che è nel sogno di Dio fin dal giorno del paradiso terrestre. Se Gesù cioè riesce ad amare fino in fondo, fino a tutto quello che Gerusalemme saprà ordire contro Gesù, allora se Gesù riesce ad amare fino a quel punto, in qualunque situazione e a qualunque costo lui riesce ad amare, se riesce a considerare un fratello per cui dare la vita anche colui che ti fa del male, è proprio grazie alla relazione con il Padre, che è fonte di una libertà che in Gesù è priva di ogni paura, di ogni preoccupazione, di ogni egoismo. È questo il segreto di Gesù che l'icona della trasfigurazione e il Vangelo di questa solennità ci fanno vedere. E questa strada che Gesù ha scelto è approvata dal Padre. Infatti Pietro ha appena riconosciuto Gesù come il Cristo e per la prima volta Gesù spiega ai suoi discepoli che il suo modo di essere Cristo avrà la forma del servo sofferente, cioè di quel giusto che non vuole usare violenza alla violenza, non risponde al male con il male. E allora il Padre con la sua voce fa vedere che la trasfigurazione, la gloria del figlio, una gloria che era nascosta finché Gesù attraversava le strade della Galilea, questa è la strada che il Padre conferma. Questa via a cui Gesù si consegna non è però la via della sofferenza, ma è la via dell'amore che sa amare anche se amare fa soffrire. E cosa succede? Succede che Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù in una forma splendente. Se guardiamo all'icona salta subito agli occhi questo biancore carico di oro che ci dice quello che in altro modo con parole la lettera ai filippesi ci ricorda. Gesù era di natura divina e nello stesso tempo sappiamo da sempre da San Paolo che Gesù è venuto da Dio e a Dio ritorna. Questo biancore ci è dato per saper intuire qualcosa della bellezza che è presso il Padre, una bellezza che aspetta ciascuno di noi perché se ci ricordiamo quello che ci dice San Paolo nei Corinti dice noi tutti riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore veniamo trasfigurati nella stessa immagine di gloria in gloria grazie all'azione dello Spirito. Questa stessa immagine è promessa a ciascuno di noi. Ecco il bianco, ecco lo splendore di questa festa. A fianco di Gesù ci sono le due persone, i due personaggi di Mosè ed Elia che rappresentano la legge e i profeti e parlano con Gesù. Gesù si confronta con la scrittura che parla di lui. A me viene in mente quando Gesù incontra i discepoli tristi di Emmaus e a loro dice ma siete proprio sciocchi, siete proprio stolti a non capire il senso delle scritture e lì inizia a fare un alezio, a spiegare tutto quello che si riferisce a Gesù dalla legge e i profeti. E qui Gesù lo fa nella sua vita, cerca la conferma della strada che lo aspetta nella legge e nei profeti. E Mosè e Elia sono anche degli esperti di passaggio. Sono esperti perché? Perché Elia è stato esperto nel riconoscere la voce di Dio nel silenzio sottile. Mosè è stato esperto del passaggio di Dio che si fa tuono, si fa fulmine, si fa forza che imprime la legge nella pietra. E Gesù si confronta con loro. E poi l'icona ci fa vedere questo cerchio attorno a Gesù, un cerchio che si fa più scuro, verso Gesù è più luminoso, più ci si allontana. Perché questa cosa? Un po' ce lo richiama questa immagine usata nel Vangelo della nube luminosa. Può una nube essere luminosa o una luce essere nebulosa? è un modo per dire un mistero. Ecco il mistero che noi spesso viviamo nella vita di tutti i giorni davanti alla culla di un bimbo oppure davanti al letto di una persona cara che sta lasciando la vita. Cosa possiamo dire e capire del mistero della vita che si sta compiendo? Non possiamo dire nulla se non esserci, contemplare e guardare. Il cerchio oscuro attorno a Gesù vuol proprio dirci esattamente questo. La vita cristiana, la vita dello spirito è come questa nube luminosa. Non vediamo tutto, non capiamo tutto, ma questa mancanza non significa un'assenza, ma una possibilità di stare, di stare alla presenza. E stiamo andando verso la conclusione. E mentre Pietro dice che è bello stare lì, la voce del padre invita ad ascoltare il figlio. Dice questa voce dal cielo, questi è il mio figlio l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo. Bellissima questa voce del padre che ci prega di metterci in ascolto di Gesù, del modo con cui Gesù è stato figlio. Il padre ci invita a guardare questo essere umano di Gesù così radicato nella relazione con lui e ci consegna il segreto della forza con cui Gesù a sua volta si consegna la passione. Ci consegna il segreto per rivelare come essere capace di una fraternità senza confini. I discepoli hanno paura di questo, ma Gesù invita a non temere. Non temiamo allora. Continuiamo la nostra strada guardando a Gesù. La solennità della trasfigurazione ci invita ad attraversare il nostro sesto giorno, ci invita ad attraversare i nostri venerdì della vita con la certezza di una luce che irrompe, di una promessa di un'umanità divina che può compiersi in noi, di un Dio che ha attraversato le strade polverose della vita per stare con noi. A tutti l'augurio di una buona domenica.